Bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedrei e benvenuti a questo video del mese universale internazionale del comunismo, quello di dicembre dove infatti domina il rosso, dove c'è un anziano con la barba, Karl Marx, che porta i regali. O no? No, direi di no, non è quello il mese attuale, dicembre fra qualche centinaio di anni, forse migliaio, sicuramente il mese di dicembre sarà dedicato a questo, quindi la festa dei compagni. Il video di oggi è un video un po' introduttivo a quello che sarà l'argomento che dominerà per l'appunto il mese di dicembre per quanto riguarda il canale, perché siamo arrivati finalmente alla metà dell'Ottocento per quanto riguarda la storia della filosofia e quindi anche la storia del mondo in generale sul canale e quindi si parlerà ovviamente del manifesto del Partito Comunista, della fondazione del comunismo a livello teoretico, a livello ideologico da parte di Karl Marx e di Engels e vorrei anche leggere e commentare proprio il manifesto del Partito Comunista. Il comunismo che scopriremo con Marx e con Engels è un comunismo profondamente calato nel 1800, quindi un 1800 che storicamente si presentava come una profonda via di mezzo, un architrave per quanto riguarda la storia umana, anche se spesso non ci facciamo così tanto caso, perché molte volte facciamo riferimento alla rivoluzione francese come il primo momento che poi ha portato allo sviluppo della ricerca dei diritti che poi, come dire, rappresenta la nostra epoca, questa ricerca dei diritti sempre più estrema come appunto quella che ci circonda. Vi dirò, effettivamente la rivoluzione francese è il motivo per cui è esistito l'800 come lo conosciamo, quindi non è neanche sbagliato tutto sommato riportare a quella situazione, a quel momento storico, la nascita dei movimenti filosofici e storici e rivoluzionari del 1800, però va detto che l'800 se ne distacca anche in maniera importante, perché dalla rivoluzione francese e quindi dagli ideali che in un certo senso già soggiacevano alla società che riempiva l'Europa, si parla spessissimo, si parlerà necessariamente di Europa in questo caso, è molto Europa centrico il discorso che facciamo in un primo momento, nonostante in realtà il comunismo si profilasse e si aspettasse un'espansione mondiale, tant'è vero che una delle opere composte da Karl Marx e da Engels fu Cina-Russia, o mamma mia non ricordo il terzo Stato, India-Cina-Russia, le premesse per tre rivoluzioni, quindi è evidente come l'ottica marxista e comunque l'ottica comunista ottocentesca volesse, avesse delle ambizioni verso il mondo, poi è vero che però l'elemento di riferimento, la società che conosceva Marx e che conosceva Engels era ovviamente quella europea, perché comunque non c'era nemmeno la possibilità che abbiamo oggi di conoscere più o meno bene società molto differenti dalle nostre attraverso la comunicazione di cui godiamo noi, ovviamente nell'ottocento la comunicazione era molto differente, si doveva attendere mesi, bisognava andare in loco fondamentalmente necessariamente per conoscere effettivamente la situazione, come era tavola anche oggi, però oggi viviamo nell'illusione di poter conoscere delle società anche attraverso delle informazioni che comunque abbiamo in modo molto più veloce, molto più istantaneo, comunque si tratta in ogni caso di un'illusione, perché per conoscere effettivamente la società bisognerebbe effettivamente quantomeno visitarla. Ecco, questa visione profondamente eurocentrica, marxista e comunista porterà Marx ed Engels a sviluppare la loro opera, perché quella società in cui vivevano, che era quindi, come dicevamo, una via di mezzo, un'architrave, tra le vecchie modalità di intendere la politica, quindi anche quei vecchi dinosauri come potevano essere lo zarismo russo, ma anche gli imperi centrali europei che poi scompariranno all'inizio del Novecento, ma che si trascinano dopo quelli che saranno gli avvenimenti che culmineranno, in realtà culminano in tutta la seconda metà dell'Ottocento, ma culmineranno, possiamo dire, nel 1848, con quell'anno che ancora oggi viene ricordato come anno mirabile, tanto che ogni libro di storia riporta che si dice ancora c'è stato un 48, è un modo di dire, per dire che c'è stata una grandissima confusione, un grandissimo sconquasso, anche se nella realtà della vita di tutti i giorni non ho mai sentito nessuno dire c'è stato un 48, però è un'espressione che i libri di storia ci tengono a sottolineare, e quindi noi la riportiamo, come è giusto che sia, come è doveroso fare. Ebbene, non solo è nato il comunismo, che è l'elemento politico che si è dimostrato più rilevante, ma in quel periodo, all'interno della metà del 1800, sono nati anche l'anarchismo, l'anarco-comunismo, il socialismo a seguito del comunismo. Ebbene, sono tutti i movimenti che nascono, e questo è l'elemento fondamentale, fondandosi sulla considerazione per cui gli elementi più bassi della società sono quelli che devono farsi rispettare, che hanno scoperto se stessi. Ora, tutto questo nasce evidentemente da una visione profondamente hegeliana del mondo, perché è proprio l'hegelismo quel tipo di pensiero filosofico tale per cui si potevano considerare gli elementi di una società e le società stesse, come in lotta al loro interno, come degli enti che si dovevano arrivare a riconoscere in quanto tali, per potersi poi spingere se stessi alla dimostrazione per cui loro sono la vera manifestazione dello spirito. Una cosa che Marx leggerà molto bene, che interpreterà molto bene, che contesterà ovviamente anche ad Hegel, sarà proprio questa possibilità dell'essere umano, per quanto riguarda la sua individualità come parte di un gruppo, come parte di una società, di potersi imporre a livello della società e della storia, e non semplicemente come individuo. Noi abbiamo appena visto invece un filosofo, Kierkegaard, che non apprezzava affatto questa visione universale della filosofia, che invece voleva concentrare il suo punto di vista filosofico sull'individuo non come membro della società, ma come individuo che è in continuo sforzo, in continuo contrasto, nella continua distruzione interiore, per quanto riguarda la propria esistenza, la propria vita, e quindi la sofferenza è privata, relativa al massimo, laddove si parla di assoluto, al rapporto con l'infinito divino, non con la società, per quanto in realtà sia comunque un elemento che è rilevante per l'individuo, ma è rilevante filosoficamente solo in quanto rilevante per l'individuo stesso. La filosofia non deve avere, secondo Kierkegaard, come scopo la ricerca della comprensione dell'universale della storia, perché non è minimamente in grado, quindi riteneva che Hegel stesse cercando di fare un qualche cosa di troppo. Marx in realtà questo punto di vista della ricerca di un elemento universale della storia lo prenderà a piene mani, come vedremo anche nella lettura, nel commento e nello sviluppo dei video futuri su Marx, per poter sviluppare il suo pensiero. Questo pensiero che, come anche gli altri pensieri, quindi l'anarchismo contestatissimo da Marx ed Engels, e il socialismo e l'anarchocomunismo, vedevano come protagonista la parte bassa della società, il proletariato. Ora, oggi parlare di proletariato è assolutamente fuori luogo, possiamo dire, perché è molto complicato vedere nella società quantomeno occidentale, perché se poi andiamo a guardare a livello mondiale si può ancora fare riferimento a quel tipo di divisione societaria, però comunque con grande fatica. Detto ciò, il proletariato nella società occidentale dell'Ottocento era un elemento fondamentale. Erano coloro che lavoravano non sottopagati di più, fondamentalmente i nuovi schiavi, gli schiavi all'interno della società che componevano la società nella sua parte più bassa, nella sua parte fondamentale, quindi la base di una piramide societaria, e che lavoravano per il sostentamento di una società che viveva su di loro. Siccome i proletari erano moltissimi, ed erano fondamentalmente la stragrande maggioranza della società che permetteva al resto della società di vivere come viveva, il movimento marxista, ma anche il movimento anarchista, vedeva nell'autoriconoscimento, quindi nella autocoscienza proletaria, per citare sempre Hegel, il momento per cui si potesse arrivare ad uno scatto, ad un superamento definitivo di quella condizione che era stata imposta ai proletari, ma quindi alla parte bassa della società, da sempre, se vogliamo, pur tornando ai Romani, pur tornando ai Greci, pur tornando, e qui è veramente incredibile, ai Babilonesi o agli Egizi, permettendo quindi a chi era sopra di loro, a quelli che una volta erano i nobili, che una volta erano i principi sacerdoti, i faraoni, tutti coloro che dominavano il mondo, potevano stare dove stavano solo perché esiste una parte bassa della società che gli permetteva di vivere quella vita che vivevano loro, una vita così differente, un'esistenza così differente. E l'Ottocento è proprio quel secolo in cui questo scarto, questa necessità di rovesciare il rapporto tra coloro che godono e coloro che permettono di godere attraverso la propria sofferenza, attraverso il proprio essere schiacciati da coloro che godono, di essere rovesciato. L'Ottocento è il secolo in cui ci si rende conto che una presa di coscienza, appunto un'autocoscienza hegeliana, da parte del proletariato, di essere la stragrande maggior parte delle persone, e il fatto stesso che quella situazione in cui si trovavano non è necessariamente, non è metafisicamente, non è intrinseca in loro stesse, potesse permettere al popolo di cambiare questa situazione. Perché se il popolo è la stragrande maggioranza della comunità di cui quel popolo fa parte, allora il popolo può essere in grado, attraverso un atto che adesso andremo a definire come rivoluzione, di rovesciare quella situazione. E rovesciare quella situazione implica per Marx non un rovesciamento tale per cui il popolo può essere in grado di schiacciare qualcun altro che godrà, che non godrà come aveva goduto fino a prima e che permetterà al popolo di godere. Come è stato invece la rivoluzione francese? Perché la rivoluzione francese è contestatissima da Marx perché si tratta di una rivoluzione borghese. La rivoluzione proletaria parte veramente nell'ideale di Marx dalla categoria più bassa del popolo, tale per cui non si possa pensare a un rovesciamento nel senso di una sostituzione di coloro che godono con coloro che invece hanno permesso di godere. Al contrario, si tratta di un appiattimento delle divisioni dei poteri, dei beni e, in generale, della vita. Perché se una volta la vita, una volta nell'ideale di Marx, la vita fino a quel momento era sempre stata divisa tra coloro che godevano e coloro che permettevano di godere, una rivoluzione proletaria non può permettere questo perché è la stragrande maggioranza della popolazione quella che fa la rivoluzione. Quindi non può esserci una sostituzione. Non si può mettere i tutti in cima alla piramide e i pochi sotto la piramide. Bisogna eliminare la piramide stessa. Bisogna portare, seguendo invece un elemento importante, il filosofo più importante dietro l'evoluzione francese, ovvero il ginevrino Rousseau, che è onestamente colui che io seguo maggiormente, piuttosto che Marx, perché Rousseau non prevedeva una rivoluzione, ma questo è un elemento di cui parleremo, sicuramente parleremo in live, seguendo quindi l'ideale russoiano di una società per cui si è tutti uguali di fronte alla società, perché la società è composta dagli individui e gli individui sono l'uno pari all'altro, dove uno vale uno, per usare un'espressione che è diventata un po' inflazionata negli anni scorsi e che oggi sta tornando finalmente nelle mani di Rousseau e non della piattaforma Rousseau, potrà permettere un rovesciamento della situazione storica e non un rovesciamento della società, per cui quello che fino alla rivoluzione francese si era trasformato sempre in una sostituzione di coloro che possedevano il potere, di coloro che possedevano i beni e dunque di coloro che godevano di una vita differente dagli altri, l'Ottocento e quindi gli ideali che con esso sono nati, quindi anarchismo, comunismo e via dicendo, sarà il secolo in cui la rivoluzione diventa veramente tale, quantomeno a livello teorico, perché la rivoluzione non vuole più una sostituzione, ma la rivoluzione vuole rappresentarsi in quanto distruzione di tutto ciò che c'era prima per una costruzione non più di una piramide, ma di una società paritaria, di una società di ispirazione rossoliana in cui tutti fossero uguali a tutti. Il video, signori, termina qui. Io vi invito a seguire il canale per il prossimo video che sarà la lettura e il commento del Manifesto Comunista che non so se faremo in live o se farò un video lungo con la lettura del testo, non credo di riuscire, anzi, non riuscirò a fare la lettura integrale del testo, quindi sceglierò dei pezzi più importanti, quelli che riterò più importanti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate il commento, lasciate anche il non mi piace, alla fine l'importante è il feedback. Io, come al solito, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo in un prossimo video.